Musica. Le quattro stagioni. Di Antonio Vivaldi. L'autunno. L'autunno è una delle quattro stagioni in cui è suddiviso l'anno. Segue l'estate e precede l'inverno. Nell'emisfero boreale, l'inizio dell'autunno è convenzionalmente individuato attorno al 23 settembre, al verificarsi dell'equinozio d'autunno. La fine della stagione corrisponde invece al 20 dicembre, quando avviene il solstizio invernale. L'inizio e la fine dell'autunno corrispondono a due particolari posizioni del Sole. Nel suo apparente movimento intorno alla Terra. Nelle date indicate entra rispettivamente nel segno della bilancia. Ed esce da quello del Sagittario. In autunno, tra le due costellazioni, il Sole ne attraversa una terza. Quella dello Scorpione. Meteorologicamente. La stagione va dal 1 settembre al 30 novembre. Nell'emisfero australe si definisce invece autunno. Il periodo che va dal 21 marzo al 21 giugno. Durante tale lasso di tempo, nella parte opposta del globo è in corso invece la primavera. Continua. Progettazione e creazione professor Salvatore Toscano. Bibliografia, le informazioni e le immagini sono tratte da Wikipedia o altri siti. Ciao a tutti. Arrivederci, ai prossimi video vi aspettiamo.